Il nostro sommario, ginecologia, prevenzioni, indagini e chirurgia della cervice uterina. 118, una rete di emergenza a garanzia del cittadino. Farmaci, la distribuzione diretta all'ospedale al momento delle dimissioni. Diabete, la prevenzione al centro dell'attenzione. Alcol e sicurezza stradale, abbiamo seguito prove alcolimetriche presso la Fiera del Monte di Castelnuovo. CIC, nella US22, sono ripartiti i centri di informazione e consulenza nell'ambito scolastico. Per distruzioni per l'uso, come accedere al pronto soccorso e infine a tavola, come sempre.